sono ormai lunghi mesi quasi anni che sto parlando del codice della paura ma vedo che intorno a questo tema c'è molta ignoranza molta approssimazione superficialità molta incomprensione e allora cercherò di dedicare un po di incontri un po di video a chi avrà la pazienza di ascoltarmi sulla paura la paura intanto potremmo dire che una delle quattro emozioni di base con la rabbia il dolore la tristezza ma io credo anche che potremmo riservare un luogo speciale alla base alla profondità delle altre emozioni in ogni caso una delle prime cose da dire è che la paura come le altre emozioni non ha oggetto come le qualità non ha oggetto emana succede dentro di noi una volta che certe condizioni si realizza potremmo dire che succede quando siamo nel posto della paura esattamente come la luce non ha oggetto ma noi la cogliamo in base a quanto ci esponiamo al sole o alla luce artificiale quindi la paura non ha oggetto cosa vuol dire uno la paura non ha oggetto secondo la paura la incontriamo quando andiamo in un certo posto leggi stato di coscienza non ha oggetto vuol dire che io non ho paura di cadere non ho paura di morire non ho paura di amare la paura mi prende e finisce così come la luce su quell'oggetto su quell'altro su quell'altro quindi se io affronto la paura di morire credendo che io possa realmente cambiare qualche cosa è come volere cambiare il risultato di un'equazione cambiando gli addendi no di una somma cambiando gli addendi devo arrivare alla radice da dove sorge devo cogliere la sua vera natura per potermi liberare dalla paura lavorare sulla paura di questo di quello di quell'altro ci fa perdere di vista così come credere che qualche comportamento in generale possa essere verso dalla paura e altro dalla fiducia siamo in questa fase pandemica no e allora credere o attribuire a chi parla di cose della paura come nel mio caso attribuire la paternità di affermare che chi agisce in un certo modo lo fa seguendo questa paura che agisce in un altro lo fa secondo chi fa una scelta sta seguendo questa paura che ne faccia un'altra ne fa un'altra segue quella della fiducia è affermare qualche cosa di sbagliatissimo non è nelle scelte esteriori non è negli oggetti quindi non è nei comportamenti che devi ricercare se uno agito con paura con fiducia ma è nell'atteggiamento interiore è nel modo io posso fare una cosa o l'esattamente l'opposto guidato dalla paura così come dalla fiducia il stesso comportamento può sguardo della fiducia della paura per questo non giudicare non giudicare i comportamenti degli altri non giudicare se uno sceglie se uno sceglie sappiamo cosa o se uno sceglie l'esatto opposto se uno sceglie adeguarsi se uno sceglie di ribellarsi se uno sceglie di difendersi o se uno sceglie di affidarsi alle capacità di difesa dell'organismo non giudicare se giudichi cerchi fuori e perdi di vista quella che è la vera natura della paura che è allora arriviamo a vedere cos'è questa vera natura della paura pensa quando sei nato paura e contrazione paura e interruzione senza il suo complementare paura e interruzione della complementarietà se la dinamica originaria è il flusso di un due che si fa uno di una pulsazione e contrazione di una polarità e di un ritmo paura e l'interruzione qualsiasi cosa che interrompa questo quindi ogni volta che tu agisci bloccando il respiro ogni volta che tu agisci bloccando la spinta che viene da dentro non separandoti da te stesso facendo una scelta superficiale invece che profonda prendendo da fuori invece che ascoltando quello che viene da dentro paura è quando sei distante da la forza del sé, della natura, della fiducia come dire cos'è la luce, cos'è l'ombra? l'ombra è l'assenza di luce ma la luce è ovunque così come la fiducia è ovunque perché la vita, la paura è distanza dalla vita è allontanamento dalla vita per cui guarda lì e non guardare ai comportamenti esteriori lascia perdere i tuoi giudizi le tue misconception le tue cattive interpretazioni dei comportamenti altrui le tue proiezioni guarda lì se sta interrompendo o fluendo e se senti magari nell'altro che emana una risonanza armonica o un'interruzione e aiutalo a stabilire il contatto la connessione con il suo con la sua verità e il suo sé invece di giudicare le sue scelte le tue grazie a tutti